E tu utilizzi questo apparato? Ovviamente sì, lo utilizzi in dei surgery con una chirurgia ambulatoria, il paziente entra, anestesia locale? Assolutamente, le parole magiche sono anestesia locale, quando la dici già si sollevano, perché dicono, ah, perché l'anestesia generale spaventa un po' tutti, oh Dio dottore, mi sveglierò, non mi sveglierò, insomma, vabbè, e io spesso dico alle pazienti, scherzando, dico signora, è meglio che si svegli, perché se lei non si sveglia più, è peggio per noi, non per lei, per lei è il modo migliore. Sono quello più preoccupato perché lei si possa svegliare. Esatto, esatto, per cui sostanzialmente la prima parola è l'anestesia locale, la seconda è non cicatrici, la parola magica, quando dici non facciamo cicatrici, perché hanno tutti paura di queste cicatrici, perché sono visibili, in questi tempi una cicatrice è estremamente importante, ma non solo la vede il parrucchiere, la vedono tutti, e quando le persone guardano, tu hai i capelli lunghi, per cui non si può vedere, ma una donna che magari ha i capelli tirati e si vede, diventa drammatico.